Questo video non ha senso ed è per questo che lo facciamo. Ciao a tutti e bentornati su The Italian Maker. Nel video di oggi faremo un video un po' strano, un po' diverso dal solito, in cui testiamo l'Eica M11, una macchina full frame, obiettivi intercambiabili, che abbiamo già recensito, la trovate nel canale, vi mettiamo il link in descrizione, che ha sicuramente un suo tipo di approccio particolare, contro un iPhone 15 Pro Max. La cosa interessante di questa sfida è, secondo me, la tecnologia del sensore, nel senso che entrambi hanno una cosa in comune. L'iPhone ha un sensore da 48 megapixel che può rimodulare per fare foto a 24 e ottenere uno zoom, o comunque abbassando da 48 a 24 ingrandisce i pixel e guadagna gamma dinamica. Se c'è poca luce, questo sensore a 48 andrà addirittura a 12 megapixel, sempre per avere pixel più grossi accorpandoli e avendo più gamma dinamica e più temuta ISO. Il sensore della Leica, il primo al mondo full frame a farlo, usa la stessa tecnologia, a un 60 megapixel, che può essere rimappato non in automatico come fa iPhone, ma scegliendo noi, a 36 o a 18, sempre per ottenere più gamma dinamica e meno rumore ISO. Due prodotti concettualmente opposti, ma con un cuore in comune. Il bello del nuovo iPhone è che ci permette, sulla focale principale, di poter scegliere tra il 24, 28 o 35 mm. Quindi riesco a confrontarla con la Leica, che in questo momento abbia scelto un 35 mm. Quindi entrambe scattiamo a 35 e abbiamo più o meno la stessa inquadratura. Vanno le chiacchiere, non ha senso perdere tempo a parlarvi dei prodotti, li conoscete già benissimo. Passiamo al computer a guardare i due. Allora, prendiamo queste due immagini all'apparenza semplici. A sinistra abbiamo il RAW dell'iPhone 15 Pro Max, che è in DNG. E a destra il RAW della Leica M11, che è sempre in DNG. Quindi siamo sullo stesso formato. Con la Leica abbiamo scattato a 36 megapixel, per avere la maggior gamma dinamica possibile. L'iPhone scatta a 24. Allora, appena l'apriamo, vediamo che c'è una bistro di differenza. Però questo perché utilizza direttamente il profilo Pro RAW. Se noi la andiamo a mettere in Adobe Standard, esattamente come il profilo che troviamo sulla Leica, vediamo che già le due foto si assomigliano molto di più. Noteremo una tendenza di iPhone a avere colori un po' più caldi, mentre su Leica è leggermente più freddo. Proviamo ad andare a renderlo più freddo. Più o meno ci siamo, ok. Potete vedere le differenze in realtà non sono così marcate. Proviamo ad andare a vedere se tiro su molto le ombre, che qua sotto quest'area è molto scura, invece cosa succede. Allora, qua siamo sempre su Leica. Aprile al massimo, così per curiosità. Passiamo su iPhone, apriamo le ombre e andiamo a vedere cosa succede al 300% nelle ombre. Allora, la tenuta ISO mi sembra molto molto buona su iPhone. Andiamo al 300% anche su Leica. Ok. Io non vedo tutta questa differenza, né in termini di rumore ISO, né in termini di dettaglio. In questo scatto si è difeso veramente bene, però bisogna ricordarsi di cambiare il profilo, perché se utilizziamo questo qua del ProRaw, la foto non mi piace per niente. Cioè, la pena aperta è terribile. Invece già con lo standard, la pena aperta è decente. Ok, eccoci in questo secondo scatto. Abbiamo sempre a sinistra iPhone e a destra la Leica. Allora, l'ho già messo in Adobe Standard. Vediamo sempre questa dominanza di iPhone a avere colori molto tendenti al giallo. Quindi andiamo un pochino a correggere il bilanciamento del bianco. Qui come sfumature di cielo, come colori, mi piace di più Leica. Non lo nascondo. Qui sotto vedete che è un'area molto scura. Qua siamo sul file di Leica. Proviamo ad aprire le ombre. Mi aspetto che questo sensore tenga molto bene. Andiamo ad aprire le ombre nello stesso modo. Ragazzi, qua si vede. Eccola qua la differenza. Guardate qui, è un pastone unico. Invece qua comunque ha mantenuto un po' più preservato la texture delle foglie. Qui è veramente... Ha smerdato tutto. Guardate qua la completa perdita di dettaglio. Che qua comunque invece mantiene... C'è molto rumore ISO per carità. Però mantiene la texture della foglia. Se lo vedete così qua si percepisce. Sul file di iPhone invece... Guardate che porcheria che ha fatto qua. Veramente qua è una porcheria. Quindi sul gestire delle ombre il sensore full frame ha ancora la strana maggioranza. Tirando giù le luci... Ok, ha perso un po' di tonalità. Invece su Leica... Mi piace di più come mantiene le sfumature del cielo e anche qua il giallo. Su iPhone si è un po' perso. A parte l'impastato qua che è veramente inguardabile. Questo che è uno scatto da iPhone e questo che è uno scatto da Leica. Su queste cose qua l'F2, il 35mm, ha questo stacco qua perfettamente a fuoco e dietro morbido che con l'iPhone ce lo sogniamo. Veramente ce lo sogniamo. Quindi da questo punto di vista per questi tipi di scatti ancora lenti intercambiabili, i diaframmi così aperti, i sensori così grossi hanno da dirla loro. Dietro vediamo una perfetta gestione di tutto. Però anche l'iPhone dietro ha gestito tutto, devo dire, è molto bene. Queste luci, queste ombre ha gestite molto bene. Chiaramente non abbiamo lo stacco interessante. Ma viene il nostro aiuto Photoshop che ha la nuova funzione in camera RAW 16 della sfocatura obiettivo. Andiamo a vedere cosa succede se l'attivo. Qual è il punto che voglio sfocare e quanto voglio sfocare. Cazzo ragazzi. Io non ci sto credendo. Io non ci sto credendo. Oh, bene bene ragazzi, questa è molto interessante. Allora, qui abbiamo iPhone sempre che parte in Pro Raw. Se lo metto in standard, come abbiamo fatto finora, guardate cosa succede. Mi chiude del tutto le ombre, le perdo tutte. Il cielo rimane buono. Usando il Pro Raw invece ho un HDR migliore. Questo perché? Perché iPhone usa i suoi calcoli di intelligenza computazionale per fare un HDR. Questo succede normale nel JPEG. Ma il bello del Pro Raw, anziché di un Raw e basta, è che è un Raw che ha all'interno comunque tutti i calcoli HDR di computazionale. Quindi qui è praticamente la fusione già di un Raw dove hai sposto il cielo e un Raw dove hai sposto le ombre sotto. E vediamo che il risultato è buono. Ovvio, poi le ombre magari vanno aperte ancora un po', però già così è buono. Se tengo lo standard e quindi gli faccio perdere queste sue pensate, il risultato è questo. E andando ad aprire le ombre sono molto morbide. Passiamo alla Ica. Questa qui è la foto in cui ho esposto il cielo. Le ombre ce le abbiamo tutte chiuse. Questa è la foto in cui ho esposto le ombre e il cielo ce l'abbiamo tutto bruciato. Cosa succede? Se qua non le fanno insieme ma semplicemente mi limito a tirar giù le luci, non ci arrivo. Se qua mi limito a tirar su le ombre, di più ci arrivo. Quindi abbiamo capito che questo sensore soffre di più la sovraesposizione che la sottoesposizione. Quindi venetela un po' più scura in caso. Perché se no al cielo non lo prendiamo. Se no possiamo fare una fusione su Photoshop, però dovete avere il cavalletto perché se no le due comunque in momenti diversi non sono allineati e viene una porcata. Andiamo interessante a vedere il dettaglio delle ombre. Qua che l'abbiamo aperte tanto e qua che si è fatto la loro pensata. Boh vabbè ragazzi qua non c'è storia. Qui ha stravinto l'Ica. Guardate il dettaglio. Questo è iPhone, questa è l'Ica. Non c'è storia. Cioè sulle ombre non c'è veramente storia. Però sulla gestione delle luci devo dire che le alte luci le ha tenute veramente veramente bene. Da buie che sono a quanto le apro comunque mantengono un dettaglio straordinario che qua invece è completamente impastato, smarmellato. Diciamo qualcosa di un po' più semplice. Questa è con iPhone, questa è con Leica. Allora, i colori io continuo a preferire Leica. L'ho detto un milione di volte, non mi stancherò mai di dirlo. In questo caso vediamo, mettendola in standard, si scurisce molto. Devo andare a aprirla un po', però a questo punto brucio il cielo. Quindi devo andare a chiedere le luci. Devo lavorare un po' sul contrasto. È un po' caldina come abbiamo visto, quindi la facciamo un filo più fredda. E vediamo se ci siamo avvicinati. Mi piace questa tonalità un po' più magenta di Leica. Questa tridimensionalità di Leica maggiore. Si vede che è un file più analogico, meno artefatto digitale. Concentriamoci su queste casette qua. Ok, non mi piacciono tanto. Cioè si vede che sono un po' impastate. Vediamo con Leica. Eh ragazzi, qua quasi. Qua è un'altra foto. Più dettaglio, anche sulle casette abbiamo più dettaglio. Qua si vede molto che è un file su cui ho paciugato. Perché comunque ci ho paciugato, cambia profili colori, apri, chiudi le ombre per provare ad avere un risultato uguale a quello di Leica. Che è quello che mi piace. Continuo a essere meglio Leica. Però i passi avanti che hanno fatto gli iPhone negli ultimi anni sono innegabili. A parte questo bilanciamento del bianco che mi fa cagare che è giallo. È veramente terribile. Apple ti prego rilascia un firmware nuovo con un aggiornamento software. Migliora il bilanciamento del bianco sui RAW perché è giallo. Piscio sulla pellicola, viene così. E però, chapeau, l'iPhone contro questa si è difeso veramente, veramente bene. Ok, i risultati li avete visti. E io sono veramente rimasto stupito dall'iPhone. È chiaro che questo confronto non ha senso perché stiamo confrontando una macchina altissima fascia per appassionati con una costruzione manuale, tutto un suo feeling contro un telefono. Quindi non vuole essere un reale confronto, non ha senso scegliere una o l'altra per fare le foto. Ma vuole essere un lode alla fotografia computazionale, a quello che può fare, a quello che in pochi anni ha raggiunto. Nel nostro canale, un video ormai vecchissimo, trovate un video della Canon EOS 6D contro iPhone 6. Ora siamo passati all'R6 e all'iPhone 15. Più o meno 10 anni. Vedete voi il video, ve lo lascio in descrizione per vedere che evoluzioni hanno fatto. Ed è veramente interessante quello che questi dispositivi riescono a ottenere. Quindi i telefoni, grazie ai calcoli computazionali, stanno ottenendo risultati incredibili. Stanno sopperendo a dei limiti hardware che hanno, sensori piccoli, lenti di scarsa qualità, di plastica. Però col software, col software riescono a raggiungere tutto. Non soltanto l'Ica, ma tutti i produttori invece puntano ancora tanto sull'hardware, ottenendo sensori grossi, lenti di alta qualità. L'Ica è lodevole il fatto che, nonostante sia un brand piccolo, un po' più di nicchia rispetto alle vendite che può avere Canon, Nikon o Fuji, comunque è la prima che si è mossa in una direzione simile, cioè comunque con questa rimanulazione del sensore. Quindi è già molto lodevole. Ma quello che a me piacerebbe vedere, ci vorranno anni, ne sono sicuro, ma immaginate dove potremmo arrivare con l'hardware di un sensore full frame, di una lente di qualità, ma con i calcoli computazionali che ha iPhone. Un saluto da l'Ica, un saluto da l'Ica. Grazie. 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 Grazie.